Allora, oggi 30 novembre, Sant'Andrea, il tema del giorno è perché il santo paga e soprattutto che succede se non paga e soprattutto ma deve pagare anche se genovese? Prego, lei che è esperto del settore. Guarda che a me mi si è ghiacciato il cervello, voi non sapete che ci sono 4 gradi e andando contro vento con la bicicletta fa un cacchio di freddo, lui qua senza ghette, tu invece fa vedere con ghette, ok, per cui cioè a me io ho praticamente un lato del cervello che si sta decongelando al sole, allora quindi prima cosa è meglio mettersi le ghette, fa vedere le ghette, che andare senza, su questo è la prima cosa quindi e potremo anche aggiungere il fatto che abbiamo scoperto per quel motivo il caffè che beviamo è molto buono e qui arriviamo all'oggetto del giorno, cosa ti ha detto la persona? Lui mi ha detto, quelli del caffè vicino a Ponte Milvio che fanno un caffè buonissimo, quando gli ho detto perché fai il caffè migliore di Roma? Io non faccio niente di strano, faccio la manutenzione tutte le volte, metto il sale e faccio le cose fatte bene. Esatto, esattamente come si fa per le strade di Roma, anche lì un attimo la manutenzione, abbiamo queste belle tavoli da biliardo, quindi è l'oggetto, quindi basta fare cose con l'amore e con la manutenzione. Devo dire di sì ragazzi, il caffè a Ponte Milvio, c'è un baretto Illy, amo Roma, amo Roma, vi consiglio di andarci assolutamente, fanno manutenzione e il caffè è talmente buono che vi prendete pure lo zucchero finale, non possiamo che augurare a tutti quanti di mantenersi bene a questo punto. Benissimo, auguri al santo.